buonasera ragazzi, e andiamo, e andiamoci a portare a casa per questa vittoria, questa vittoria sofferta ragazzi una vittoria sofferta con Tiborone e Dallara, cazzo, non si può soffrire così, non si può soffrire così, non si può soffrire così ragazzi non si può soffrire così, specialmente all'inizio del secondo tempo, ma quante cazzate abbiamo fatto, quante cazzate colossali le partite vanno chiuse subito, subito, subito e subito, non è possibile ragazzi, una vittoria sofferta, una vittoria sofferta decisa dal gol di Morata e da un bel gol da parte di Quadrado, bel gol, davvero bel gol una bella prodezza cazzo e adesso testa a Cagliari, testa a Cagliari martedì, che dobbiamo continuare a vincere a convincere, perché la convinzione è molto importante, la convinzione è molto importante ragazzi e dobbiamo essere cazzuti, cazzuti sotto porta, cazzuti sotto porta e chiudere le partite, perché soffrire così non ne posso più, non ne posso più di soffrire così, non ne posso più io a maggio non ci arrivo, a maggio non ci arrivo, ve lo dico ragazzi, non ci arrivo bene ragazzi, con questo è tutto, vi auguro una buona serata iscrivetevi al canale YouTube, uscitevi su Instagram, su ZebraBianconera95 e seguitemi anche sulla pagina Facebook di ZebraBianconera nella giornata del dolore fino alla fine, forza Juventus sempre buona serata a tutti ragazzi, ciao ciao